Fare rete per garantire sempre maggiore sicurezza ai cittadini. Questa è la richiesta principale avanzata dai sindaci del Medio Alto Sele, oltre che di Ebole, al neoprefetto di Salerno Francesco Russo e ai vertici delle Forze dell'Ordine. In occasione di un comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che ha dato il via ad una serie di incontri programmati dal rappresentante di governo in provincia di Salerno, per ascoltare direttamente dai primi cittadini i principali problemi vissuti. Maggiore presenza di Forze dell'Ordine, quindi, ed anche sistemi avanzati di videosorveglianza, a queste alcune richieste dai sindaci. La sicurezza come la salute è un valore per il quale bisogna lavorare in prevenzione, quindi più forze sul territorio, nuove tecnologie, per nuove tecnologie mi riferisco ai varchi di controllo alle telecamere, insomma, ma non a scimbiuttare le telecamere, ma a mettere quelle lì altamente performanti in modo che si possano controllare meglio le persone che possono commettere atti delittuosi. Per fare questo lo dobbiamo fare in economia di scala come territorio e per questo siamo qui tutti i sindaci. La gestione quotidiana porta con sé delle problematiche. Ma non c'è dubbio, questo credo un po' ovunque si marca una carenza proprio sul piano numerico, non dell'azione, perché i nostri carabinieri, le nostre forze dell'ordine fanno di tutto, ma naturalmente c'è una carenza proprio di carattere numerico. Tutto questo senza dimenticare i problemi dei centri più grandi, come Eboli, dove è sempre presente la criminalità organizzata e si vivono i disagi per la presenza di tanti migranti irregolari. C'è stato il ritorno di alcuni pentiti, c'è un atteggiamento sotterraneo pericoloso, non è più appariscendo come una volta, ma che comunque è preoccupante. Però a questo aggiungiamo, anche perché da circa un anno abbiamo avviato un censimento molto importante come Polizia Municipale e con l'Ufficio NACV in collaborazione con l'arma dei carabinieri, in particolare di Santa Cecilia, sulla questione dei tanti clandestini che abbiamo e dei tanti irregolari. Proprio in questi giorni abbiamo fatto altre scoperte importanti, stiamo avviando anche un monitoraggio direttamente con l'Ufficio NACV e con la cancellazione della residenza. Contemporaneamente però abbiamo la necessità forte di una maggiore presenza, anche numerica, perché la disponibilità del comando dei carabinieri, ma anche della Polizia Stadale e della Guardia di Finanza è rapportata ai loro numeri. I nostri, poi come Polizia Municipale sono davvero miseri.